Sinceramente non lo so nemmeno io, so che abbiamo preparato questa partita con una voglia di rivincita per il pareggio che avevamo fatto con la Fiorentina e tutti nello spogliatoio avevamo la voglia di oggi di portare a casa i tre punti. Non penso solo che sia stata la mia prestazione positiva ma quella di tutta la squadra perché oggi si è visto veramente un grande Torino e quindi abbiamo meritato secondo me di portare a casa i tre punti.